Amici di GoLarsa Coaching, vi spiego come potete migliorare il vostro tennis con il grande supporto della videoanalisi. Perché è importante questo strumento? Il giocatore di tennis ha una scarsa percezione di quello che è il suo reale movimento. Possiamo andare a rivedere analizzando gli appoggi. Carico della gamba destra buono, la gamba sinistra va ad appoggiarsi, il braccio non dominante esegue un buon lavoro. Possiamo fare il parallelo, quindi vedere la comparazione tra il diritto del giocatore e il diritto di un maestro o il diritto di un altro ragazzo o addirittura il diritto di un grande campione. Un'ottima posizione di partenza con gli appoggi perché è una posizione molto ampia. Il peso del corpo è sulla gamba destra. Nella tua preparazione la mano sale sopra l'altezza delle spalle. Nella parte bassa la gamba destra si fa carico del peso del corpo. Il busto in questo momento dovrebbe essere rivolto un pochino più in avanti. Se tu avessi il busto un pochino più inclinato eviteresti questa torsione che fa sì che tu ti tolga dal peso quando vai a impattare. Possiamo anche fare una programmazione mirata sui miglioramenti, un lavoro tecnico con la videoanalisi. Per esempio con il servizio, questa inclinazione delle spalle e questa molla che fa l'anca. Tutte e due i piedi stanno spingendo per andare a saltare. Da qui inizia la velocizzazione della testa della racchetta che va a colpire. Una posizione eccezionale da giocatore molto forte. Vedete l'inclinazione delle tibie, il twist. Guardiamo dove c'è però da migliorare. Il giocatore qua si toglie lateralmente con il busto e a questo punto va a lavorare su un binario solo di braccio. La videoanalisi in questi particolari usata col giocatore può essere importante perché il giocatore ha una prima parte di movimento corretto e una seconda parte di movimento da correggere. Amici, con l'applicazione GoLarsa Coaching avete un'area dedicata alla videoanalisi. Potete mandarmi i vostri filmati, ve li analizzerò, li riceverete a casa e con una programmazione nel tempo potremo migliorare insieme il vostro tennis. Grazie.